e a bombazza amiche di striscia 100% urmotti oggi in versione Guinness World Record alle mie spalle abbiamo la torre più alta al mondo 828 metri sviluppata su 160 piani e 4000 scalini il mio intento è di risalire tutti i 4000 scalini e i 160 piani senza appoggiare i miei piedi in 4 ore partirò alle 20 ore Dubai alle ore 18 italiane per tentare di arrivare su per la mezzanotte e per passare al giorno dopo allora uno spagnolo e un polacco possiedono un Guinness 2000 scale 100% urmotti giusto perché l'italiano vuole fare lo sbruffone e arrivare a 4000 il problema qual è? il problema è che all'interno delle scale di sicurezza non abbiamo l'aria condizionata e al momento ci troviamo intorno ai 38-40 gradi dunque sarà veramente dura suderò tantissimo e ho scelto di andare con abiti civili senza troppe menate e utilizzare la stessa mountain bike che usano i servizi con una gomma come potete vedere slick e soprattutto da 26 pollici dunque vando alle ciance questa volta gasate e state con me ci vediamo tra poco ok 1, 2, 3, via 1, 2, 3, via 1, 2, 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 via